dimentica le radici e vuole un'Europa che faccia meno e meglio. Allora, che cosa bisognerebbe fare e cosa non la convinceva del ragionamento di Bolloli? Allora, uno, mi farebbe piacere capire qual è l'idea della Presidente del Consiglio sull'Europa perché meno e meglio non mi sembra che sia particolarmente indicativo. Non c'è discussione sull'Europa, non ce n'è alcuna e quello che ho raccolto partiva dal viaggio che abbiamo fatto per raccontare 13 idee di un libro, abbiamo incontrato 7.000 persone in 102 incontri, persone particolari, persone che stanno sulla frontiera del cambiamento produttivo, del tentativo di fare esperimenti sociali in un paese che tengono, sono tra quelli migliaia che reggono il paese e anche lì ho trovato indifferenza, anche lì ho trovato disagio e una voglia enorme di capire per cosa stiamo votando. Da questo punto di vista, dato che non si butta niente perché io sono un praticone, io non butterei neanche la polemica, per questo stavo con la bocca aperta, perché mi ne approfitterei. Ho visto che qualche giornale già l'ha detto, ma in questa sede è bene ricordarlo, l'articolo 11 della Costituzione che è stato scritto apposta dai nostri costituenti che avevano in testa l'Europa e le Nazioni Unite. In quell'articolo hanno scritto che la sovranità del paese è limitabile, uno. Cioè l'ha scritto, sicuramente se Mattarella avrebbe detto una frase del genere se non sapesse di avere una base costituzionale. Ma hanno detto un'altra cosa che ci porta su quale Europa, perché non basta dire Europa, Europa, Europa. Lì ci sta scritto che la limitazione è possibile se essa è necessaria per la pace e la giustizia delle nazioni. Allora, la discriminante vera è se i candidati e le candidate che vanno in Europa, che noi votiamo, che sono fondamentali, al di là del partito a cui appartengono, che in questo momento le persone interessano, devo dire, girando l'Italia, abbastanza poco, interessano le persone, vanno lì a dire delle cose concrete, a dare battaglie che facciano più pace e più giustizia. Allora lì comincio a capire qualcosa. Perché anche io sono d'accordo che c'è un bilico, che l'Europa è in bilico. Non sono sicurissimo che abbiamo in testa tutti lo stesso bilico. Se vogliamo poi lo... Tutti lo stesso bilico. Tra l'altro ricordo che per Donzelli il suo...